buongiorno a tutte buongiorno a tutti allora oggi vedremo qualche primo passo di come utilizzare QGIS quantum geographic information system è un software open access che è uno dei più utilizzati per quanto riguarda il mondo open access per fare semplici e non tanto semplici anche avanzati lavori con dati ambientali o comunque dati geografici prima di cominciare andiamo un attimino a vedere dove prenderci alcuni dati per poter fare la nostra esercitazione utilizzerò il portale natural earth natural earth data.com lo vedete qua sopra dove posso andarmi a scaricare nella sezione downloads tanti tipi diversi di da per esempio andiamo qui in downloads abbiamo dati ad alta scala quindi 1 10 milioni dati a scala media 1 50 milioni e dati alla piccola scala 1 110 milioni dipende da che mappa devo fare se devo fare una mappa molto dettagliata voglio dati ad alta scala per esempio per esempio potremmo andare nel physical qui potremmo prenderci il land boundary quindi la un poligono che definisce la costa e quindi me lo vado a scaricare posso prendermi river lake ok bene prendiamo river lake così mettiamo i fiumi nella nostra mappa e possiamo mettere anche label points che sono ad esempio i nomi di città i nomi di altri toponimi che potrebbero interessarci prendiamo questi tre questo potrebbe essere un primo inizio della nostra mappa ok ora che ho questo devo innanzitutto imparare a mettermi le cose in ordine per esempio io qui ho la mia cartella downloads vedete che ho il mio desktop con un sacco di cose faccio una new folder quindi una mia cartella che mi metterò qui la chiamiamo gis text and size vedete che ho messo un underscore non ho messo uno spazio nel nome della mia cartella lo vedete qua semplicemente perché è molto meglio non usare mai spazi all'interno dei nomi di file nomi di cartelle quando si lavora con sistemi informativi geografici perché potrebbero causare problemi al programma a trovare i file vedete che anche quello che ho scaricato nella mia cartella downloads invece che dei spazi ha degli underscore e prendo quello che mi sono scaricato e me lo porto qua così almeno ce l'ho dentro la mia cartella esercizio gis ora se apro questi se apro questi file vedete che queste cartelle scusate vedete che ho tanti tipi di file questo è sicuramente una cosa molto importante a ricordarsi nel senso che questo è è uno dei formati principali che QG slegge ed è il formato shapefile shp lo shapefile ha in realtà uno è definito in realtà da uno due tre quattro cinque tipi di file questo perché perché il file principale shp chiama di fatto un foglio di stile shi un foglio di progetto quindi un foglio che ci dà la proiezione del file di cui parleremo dopo un database quindi una tabella o una serie di tabelle a cui i dati possono essere collegati e un file di configurazione poi avete anche qui due file diversi che non c'entrano niente con il formato shapefile che sono i punti scusate la versione .txt e readme.html questi sono molto importanti perché vi danno delle informazioni su come sono i file se io apro con text edit mi dice che la versione è 5.0.0 quindi ho aperto con un editor di testo qualsiasi e se io invece apro l'html mi manda a una pagina dove vengono descritte queste sono per esempio le physical labels dove vengono descritti tutte le proprietà di questo layer che ho scaricato quindi ho un link diretto alle proprietà di questi file bene ora andiamo avanti nel senso adesso andiamo a vedere come aprire quantum gis dovete scaricare quantum gis dal sito web e una volta che l'avete scaricato sia che siate sul mac io sono sul mac sia che siate su windows potete aprirlo e questa è l'interfaccia che vi si presenta in realtà qui ho già dei progetti sui quali ho lavorato qui ci sono un po' di notizie qua ci sono un po' di avvisi ma generalmente la cosa che si fa è andare qui e creare un nuovo progetto un nuovo progetto è come un foglio bianco sul quale noi possiamo importare dei dati possiamo importare diversi tipi di dati quello che vedremo adesso sono dati di tipo vettoriale che cosa vuol dire vettoriale sono dati definiti da punti linee e poligoni che non perdono di risoluzione quando faccio uno zoom per esempio quindi ogni volta che io vado a zoomare su una determinata area dato che questo dato che il disegno sarà definito da un punto da una linea da un poligono quindi da una funzione vettore non si perde di risoluzione andiamo a vedere con un esempio che cosa vuol dire e apriamoci i dati che abbiamo appena scaricato per vedere che cosa sono vado qui ho una barra di comando se non ce l'ho posso andare su view panels e qui posso scegliere le barre di comando che posso attivare per esempio se io attivo browser viene una barra di comando in questa zona se non avete per esempio la barra layers vado su scusa view panels layers panel quindi mi si fa vedere la layer panel qui ho acceso ad esempio la processing toolbox posso anche spegnerla perché in questo esercizio non ci servirà però se mi dovesse servire so dove andare a riprendere e la cosa che faccio è vado qui e clicco su importa vettore posso arrivarci anche da add layer add vector layer questi sono due modi uguali per arrivare a questa schermata che avete qua adesso mi chiede dammi il vector dataset dammi il vector dataset quindi io vado a cercare sul desktop l'ho messa sul desktop la mia cartella di nuovo è abbastanza identico è abbastanza uguale fare mac windows o linux la ricerca è molto simile e andiamo intanto a importarci questa che era la term qui vedete che ho tutti i file tra questi file scelgo l'SHP che chiama chiama tutti gli altri file quindi è un file che mette insieme tutti gli altri file vi dico aprilo mi chiede un po' di cose ma io glielo lascio di default e faccio add e chiudo una volta che ho fatto add e ho chiuso eccomi qua ah l'ho aggiunto due volte ho sbagliato qui posso rimuoverlo quindi ho cliccato due volte su add qui posso rimuoverlo e a questo punto io ho il vettore poligono che mi sono scaricato vedete che è un vettore globale posso andare a zoomare io di solito lo faccio con la rotella del mouse quindi così sto muovendo la rotella del mouse se no potete andare anche qui e zoomare per sommi canti ovviamente vedete che per esempio posti che conosciamo abbastanza bene sono molto poco definiti nel senso non ho una enorme definizione però comunque ho già comunque una definizione per esempio delle isole della Croazia abbastanza buona quindi posso anche avere un'idea di come sono le varie terre ovviamente questa abbiamo detto è una mappa a 10 milioni quindi molto 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 di ampia scala ok un'altra cosa che posso fare a questo punto dato che ho importato la terra vado a fare di nuovo add layer mi cerco di nuovo quello su cui ero vado sull'esercizio GIS e posso portarmi i laghi vediamo che cosa c'è all'interno dei laghi vediamo se troviamo la laguna di Venezia per esempio aggiungi chiudi il Mac mi fa passare di finestra in finestra in questo modo vedete che qui allora in realtà i fiumi questi erano fiumi laghi però sono le centerlines forse dovevo portarmi il poligono dei fiumi poco importa si può giocare con i vari poligoni comunque vedete molto bene che sono stati definiti i vari fiumi andiamo adesso un attimino a giocare su questa cosa pensiamo di dover fare per esempio una mappa che ne so di quest'area ok pensiamo di voler fare una mappa di per non essere sempre in in Italia scusate per non essere sempre in Veneto andiamo a fare una mappa dell'isola d'Elba ecco l'isola d'Elba ok possiamo andare innanzitutto a cambiare quali sono i colori del diciamo del nostro display cambiando i colori cliccando due volte si va su questa finestra che ci dà tutte le proprietà che noi possiamo cambiare che possiamo editare di quel particolare per esempio in questo caso vedete che se io vado su simbologi ho un simple fill beh gli potrei dire dammi un colore nero gli dico applica e vedete che immediatamente sono andati i colori neri potrei voler fare una cosa un pochino più interessante cioè mettere uno stroke color un pochino sul grigino e aumentare un pochino stroke è il il bordo lo aumento un pochino applico e vedete che mi ha fatto nero l'isola d'elba con un bordino grigino insomma qualcosa che è un po' più è un po' più bello ovviamente posso fare la stessa cosa adesso ho scelto l'isola d'elba ma posso fare per esempio la stessa cosa per i fiumi e ovviamente facendo i fiumi posso andare a dargli un azzurrino e quindi ok gli do un azzurrino ok vedete che ho definito i fiumi prima di andare avanti bisogna parlare di una cosa molto importante io ho scaricato questi dati da un sistema diciamo da un provider che è natural molto conosciuto internazionale e quindi questi dati sono sicuro che sia scusate che siano riferiti tutti alla stesso allo stesso sistema di proiezione che cos'è il sistema di proiezione quindi adesso vi faccio vedere che cosa si intende per dati riferiti allo stesso sistema di proiezione per spiegarvelo prendo la documentazione di QGIS che è fatta benissimo è fatta anche in italiano ed è veramente veramente utile se avete dubbi sulle procedure sulle varie sulle varie cose da fare e in più spiega anche determinate cose ora il nostro pianeta è una sfera ok è un elissoide non è una sfera perfetta ma possiamo immaginarlo in prima approssimazione come una sfera quando noi la rappresentiamo su uno schermo o su una carta dobbiamo schiacciare questa sfera dobbiamo aprire questa sfera e schiacciare il modo in cui noi apriamo o schiacciamo questa sfera su un piano è una proiezione cartografica ovviamente sto di fatto avvolgendo la sfera come vedete ad esempio nel in questi tre esempi sto avvolgendo la sfera in una in una forma che possa racchiuderla e poi taglio quella forma e la svolgo la apro come una carta vedete questi sono i tre passaggi di un tipo di proiezione il tipo A è una proiezione cilindrica il tipo B è una proiezione conica e il tipo C è una proiezione piana cioè nel senso la sfera viene proiettata direttamente su un piano invece che essere proiettata su un cono e poi tagliata le proiezioni piane per esempio sono utilizzatissime quando fate una mappa dei poli quando rappresentate una mappa dei poli mettete un piano sopra i poli e proiettate la terra sopra i poli ovviamente questo determina che noi possiamo avere su un piano rappresentazioni del nostro pianeta molto diverse per questo ad esempio abbiamo proiezioni come la proiezione di Robinson quella che vedete qua oppure la proiezione di Mercatore che è una delle più importanti però vedete che ad esempio nella proiezione di Mercatore guardate l'estensione dell'Antartide e guardate l'estensione dell'Antartide nella proiezione di Robinson in realtà questo succede perché tutte le volte che noi scegliamo un piano diverso su cui proiettare e beh ovviamente staremo schiacciando più o meno determinate aree per esempio la proiezione di Robinson non distorce tantissimo le superfici e mantiene le conformità angolari e le distanze la proiezione di Mercatore mantiene molto bene le proprietà angolari quindi le relazioni di angolo tra una parte e l'altra del mondo però le aree risultano distordi quando è che è importante mantenere le angolazioni e beh quando faccio navigazione per esempio quindi devo sapere che se vado per 30 gradi nord da un punto a un altro troverò l'altro punto su quella mappa ok ci sono tantissimi tantissimi tipi di proiezione vedete qua ne avete ne avete alcuni e queste si trasformano all'interno dei sistemi di coordinate geografiche quindi tutte le volte che vi viene dato un dato che vi viene portato un che viene dato un dato voi dovete avere in qualche modo contezza della proiezione cioè dovete sapere qual è il metodo che è stato utilizzato per svolgere la sfera in questo punto per esempio i dati natural earth se noi clicchiamo col tasto destro e andiamo su properties e andiamo su information ci sono dati e un coordinate reference system questo è importantissimo ci deve sempre essere coordinate reference systems e psg 4326 wgs84 che nient'altro è che la latitudine il sistema di latitudine e di longitudine per le coordinate che utilizziamo normalmente anche nei gps ok questo epsg 4326 è un codice univoco che identifica questo sistema di coordinate per cui se io per esempio vado su un sito che si chiama epsg.io e scrivo 4326 all'interno del codice cerco e vedete che ho il wgs84 di world wgs84 world geodetic system 84 che è quello usato all'interno dei gps le coordinate di latitudine e di longitudine allora possiamo usare sempre questo sistema di riferimento e in realtà no per esempio ci sono alcuni sistemi o alcune applicazioni per le quali vogliamo avere che ne so un sistema metrico vogliamo avere le coordinate non in latitudine e longitudine ma in metri e quindi usiamo l'universale trasversa di mercatore che divide il mondo in zone e che quindi e che proietta secondo sistema di coordinate questo non è un corso sui sistemi di coordinate però comunque sapere che ci sono dei sistemi di coordinate è molto utile per una cosa se qualcuno ci dà un file ci dice guarda che questo file ha una proiezione epsg 32623 che è una zona dell'universale trasversa di mercatore credo sia la zona che corrisponde all'Italia ovest puto 32 ma non ne sono sicurissimo e noi cerchiamo di portare quel dato qui dentro dove ho 4326 il WGS 84 il World Geodetic System 84 e praticamente le due anche se ho dei dati che si sovrappongono verranno plottati verranno messi in due aree completamente diverse del nostro pianeta quello che devo fare sarà una riproiezione di uno o due di uno dei due dei due dati quindi dovrò o prendere il dato che mi è stato dato e portarlo nel mio sistema di riferimento o prendere i miei dati e portarli nel sistema di riferimento questo si fa ma questo ve lo dico solo per completezza di informazione questo si fa andando su il processing toolbox e c'è un sistema che si chiama project project reproject layer in cui mi viene chiesto dimmi in che sistema dimmi che layer vuoi proiettare e dimmi in quale in quale sistema di coordinate questi sono quelli che uso più frequentemente il 32632 è la zona 32 nord come vi dicevo prima in quale sistema di coordinate vuoi proiettare il tuo sistema quanti sistemi di coordinate ci sono se voi andate qui li vedete ce ne sono una marea nel senso che ci sono tantissimi tantissimi vedete qui ne sto scorrendo solo alcuni ci sono tantissimi tantissimi modi di proiettare il nostro pianeta su una sfera scusate di proiettare una sfera una simil sfera che è il nostro pianeta su un piano a seconda di che cosa? a seconda delle esigenze che ho per esempio in Italia utilizziamo moltissimo l'Italy 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 no non me lo trovo il Montemari il Montemari che è un sistema di proiezione specifico utilizzato per l'Italia è probabile che se vi trovate a lavorare in Italia vi trovate a lavorare con questo con questo tipo di proiezione quindi dovrete adeguare i vostri dati a questo tipo di proiezione bene questo è più o meno una cosa preliminare non la useremo perché qui vogliamo vedere come si crea una mappa molto semplice come si crea un layout di mappa molto semplice però comunque è abbastanza buono a sapere ok noi siamo abbastanza tranquilli quindi che Natural Earth ci dà ci dà dei dati che hanno tutti lo stesso sistema di proiezione prima di andare avanti e di costruire un un layout che abbia un senso fatemi fare un'altra cosa non mi piace troppo questo nero che vedo qui quindi mi metto la terra Simple Fill cambio un attimino colore vediamo troviamo un grigio un po' più scuro rispetto a quello della terra Apply ok ok così mi piace un po' di più non mi piaceva troppo la parte nera addirittura forse un pochino potrei invertire le cose vedete che la grafica poi parte un po' da qua potrei mettere questo in realtà nero ok e questo lasciarlo in realtà molto chiaro perché se avessi qualcosa da mettere a terra ok più bello ok quindi adesso aggiungo vi ricordate che prima ci siamo scaricati dei punti adesso vado ad aggiungere quei punti che ci siamo scaricati avevamo scaricato tre file e region points vediamo un attimo points shp open add close quindi devo fare sempre la mia solita cosa con il mac e vediamo che punti mi ha aggiunto ah ok ha aggiunto in realtà pochi punti vediamo che cosa sono questi punti andiamo a vedere c'è una cosa che non vi ho detto questi non sono solo disegni questi non sono solo il disegno di un fiume ma sono anche al disegno del fiume quindi alla alla linea al punto o al poligono hanno associato una tabella questa tabella ha all'interno delle proprietà come faccio a vedere questa tabella tasto destro open attribute table questi sono attributi una tabella di attributi vediamo che cosa c'è qui dentro questa tabella di attributi e c'è tutta una serie di informazioni per esempio questi sono isole capi ah isole e capi e cascate ok devo aver scaricato ah perché ho scaricato gli ambienti naturali non ho scaricato quelli antropici pensavo di trovarci le città qui dentro ma ho scaricato gli ambienti naturali quindi mi da ovviamente le isole i capi e le e le cascate e altre e altre cose naturali per esempio vedete gruppo di isole Tristan da Cugna sono un gruppo di isole in Brasile mi dice la latitudine e la longitudine mi dà qualche altra informazione sulla regione la sottoregione Southern Atlantic Ocean e me le dà anche in altre lingue e in altri alfabeti nel caso in cui io volessi utilizzarla per volessi utilizzarle per mappe in lingue diverse dall'inglese ok queste il Natural Earth penso probabilmente l'avete già capito è quello che sta alla base di tante mappe come OpenStreetMap o anche Google Earth o anche Google Maps ok poi Google Maps implementa con tantissime altre informazioni ma questa è una delle delle base quindi vedete che io ho tutta una serie di attributi legata a questi punti quindi ogni punto per esempio andiamo a farli un pochino più visibili quindi in Pole Marker posso usare anche una di queste cose un po' più belle rendiamola ancora un po' più visibile andiamo qui e aumentiamo questo molto bene così almeno vedo bene i punti ognuno di questi punti ha delle proprietà queste proprietà io le posso vedere oltre che dalla tabella quando vado su questo tasto i vado qui devo fare vado qui vedete che mi si è aperto qua il process mi è aperto ma lo chiudiamo vedete che si è aperto un identify results gli dico current layer quindi selezionami solo il layer che io sto selezionando e se la selezione 1 questo mi dice che è il cabo del Savvy Center in Portogallo ok e mi da quella riga della tabella della tabella tributi qui questo è molto utile se io volessi fare un'operazione di labeling per esempio cioè vado qui clicco doppio clic gli dico mettimi una label per il momento non ho label quindi un'etichetta single labels che cosa voglio che ci sia qui e mi fa scegliere da tutta quella tabella di attributi vuoi la regione vuoi la sottoregione in realtà voglio il nome voglio il nome del capo applico ok e vedete che mi mette il cabo e il Savvy Center vedete che quando cambio lo zoom lui cambia lo zoom insieme questo funziona per esempio anche quando vado sui fiumi vado sulla selezione quindi seleziono questo layer mi chiedo come si chiama questo fiume ed è il fiume Godal Kivir ok a quel punto posso mettere una label anche sul fiume Godal Kivir e cercare di e quindi fare un fare un'operazione cartografica label adesso sono sui fiumi single labels il nome sui fiumi lo facciamo watercourses questo ce l'avevo già definito all'interno del file di configurazione applica ok e vedete che mi mette il fiume Godal Kivir ok questo quindi è quanto per quanto riguarda diciamo importarsi qualche file e mettere e mettere le alcune label mettere alcune cose adesso vi faccio vedere questi sono file vettoriali adesso vi faccio vedere come si può invece importare un file tra virgolette immagine georiferita all'interno di questo programma di modo che si possono aggiungere altri tipi di informazioni anche questo tipo di immagine ce lo andiamo a scaricare da natural alert molto bene quindi andiamo a vedere andiamo a vedere che cosa abbiamo all'interno dei raster quindi dei file che non sono vettoriali quindi che non sono definiti da punti linee poligoni ma raster quindi definiti da pixel all'interno di natural alert quindi vado di nuovo sulle scale 1-10 milioni e vedete che ho un po' di cosine interessanti per esempio ho un raster di questo tipo che mi dà uno shaded relief quindi un rilievo con diciamo una definizione basata da loro sulle zone umide o uno shaded relief grigio o una mappa derivata da satellite con un po' di battimetrie posso posso scegliere diciamo che come prima cosa posso come in prima primissima battuta posso prendermi potrei prendermi questa potrei prendermi il cross blended hypsometric vediamo quale mi conviene prendere io direi di prendermi questo il più completo con il rilievo water drains and ocean bottom ok in realtà si può scaricare in dimensioni diverse 385 megabyte verso 228 megabyte cambia la risoluzione io mi prenderei vediamo se tanto sono collegato a una buona rete un large size guardate anche la differenza di file quando abbiamo scaricato l'altro gli altri dati erano pochi megabyte ok qui siamo già sulle centinaia di megabyte perché comunque è un dataset abbastanza importante per fortuna la velocità di download è buona e quindi è abbastanza buona io ho detto prendo questo download e me lo sono portato offline non lo avete visto nella cartella dove ho iniziato a salvare tutte le mie cose quindi adesso apro il mio bel QGIS e invece che andare qui e importare vettori vado in quello sotto e importo un raster portare raster e vado di nuovo sulla mia maglia JS exercise e vedete che ho offline ho portato questo anche qui ci sono diversi file c'è di nuovo un file prj abbiamo capito il file prj mi dà la proiezione ci sono di nuovo i ritmi txt c'è un altro file accessorio ma a me quello che interessa è il file .tif che è un file di immagine e vedete che era 300 megabyte unzipato è 700 megabyte 300 megabyte zippato è 700 megabyte unzipato quindi ok aggiungi e chiudi vediamo che cosa è successo mi ha aggiunto mi ha aggiunto un raster che è una mappa di diciamo di rilievo vedete che c'è una differenza se io zoomo tantissimo scusate adesso vi dico un'altra cosa se io zoomo tantissimo all'interno del raster qui possiamo anche togliere l'identify grana perché questo raster è di fatto questo è di fatto un raster quindi non è definito da linee punti ma è definito da questi piccoli quadratini ognuno dei quali ha un suo colore guardate che cosa succede però se prendo questo layer e lo metto sopra vuol dire lo metto sopra il visualizzabile sopra quello che io ho appena portato vedete che se io zoomo di nuovo il raster perde di risoluzione mentre il vettore no adesso ve lo faccio un po' più grande così almeno un po' più spessa la linea così almeno si vede un pochino meglio vedete che il raster mi perde di risoluzione il vettore no la cosa buona del raster è che ovviamente ci può dare una copertura più continua e più complessa rispetto a quella che abbiamo con i dati vettoriali si possono fare un sacco di cose a questo punto possiamo per esempio andare a fare intanto portare sopra le varie le varie regioni e a questo punto per esempio si possono andare a fare operazioni di trasparenza non lo so adesso sto facendo a caso ma se voglio una trasparenza vado nel layer transparency del raster abbasto la trasparenza a 50 più o meno applica e vedete che gli do questo effetto un po' un po' grigetto perché sotto ho io ho creato la trasparenza ma io sotto ho il mio il mio raster grigio che ho fatto grigio un'altra cosa che generalmente si fa vado qui in realtà tolgo tolgo questo lo metto trasparente ok lascio il nero lo porto sopra lo porto sopra qui la trasparenza gliela ridò al 100% ed ecco che ho una mappa in cui la linea di costo è definita molto bene da un vettore i fiumi sono definiti molto bene da un vettore ci sono delle zone definite molto bene definite a loro volta da un vettore e quindi posso iniziare a ragionare su queste cose vi faccio vedere un'ultima cosa questo è proprio una primissima base ok di GIS quindi non abbiamo la pretesa di andare chissà dove e di fare chissà che cosa però vi faccio vedere un'altra cosa che è molto interessante su GIS su GIS potete anche lavorare voi cioè disegnare voi mettere voi delle linee dei poligoni e dei punti per esempio immaginiamo che io stia studiando in quest'area ok e che la mia area di studio sia questa zona andiamo quindi a mettere un punto a creare un nuovo file a creare un vettore che sia il nostro nuovo punto per farlo devo andare su questo su questo bottone che avete di default new shapefile layer vado qui mi si apre questa finestra e mi dice dimmi il nome innanzitutto io gli do il nome vado sul mio desktop mi metto nell'esercizio magari crea una nuova cartella con miei file crea vado dentro questa cartella e gli dico salvalo come area underscore studio salva poi mi chiede il file encoding beh siamo in utf questo dipende dai caratteri che voglio usare all'interno della tabella quindi utf è quello che generalmente usiamo per i caratteri diciamo occidentali e qualche simbolo matematico tipo di geometria punto multipunto linea stringa o poligono cioè voglio disegnare un poligono voglio una cosa chiusa voglio una linea voglio disegnare per esempio un'asta fluviale voglio un multipoint cioè voglio che voglio disegnare 5 o 6 punti che abbiano la stessa proprietà o voglio un punto magari per la mia area di studio mi basta un punto per esempio quindi punto mi chiede se voglio la z i valori z valori m in questo caso voglio i valori z mi dice che sistema di riferimento voglio e io voglio lo stesso sistema di riferimento che ho per il mio progetto e poi mi dice dimmi che cosa vuoi dentro la tabella attributi per esempio nome area cioè voglio nella tabella attributi poter scrivere il nome della mia area e gli do una lunghezza in caratteri di 120 tipo testo poi aggiungo vedete che questo è un'altra riga della mia tabella è un'altra colonna della mia tabella della mia tabella attributi magari posso anno studio anno sì c'è un limite nel numero di caratteri nel numero di caratteri che posso mettere year e a questo punto year sarà un integer lunghezza 10 precision va bene add posso mettere nel mio punto per esempio se nella mia area di studio studiassi il che ne so sediment concentration sediment sediment c possiamo chiamarla sed c a questo punto sarà un decimale lunghezza 10 quindi 10 10 cifre e precisione 6 3 cifre dopo la virgola 2 cifre dopo la virgola per esempio add sediment concentration che ne so magari sto studiando un fiume voglio sapere la concentrazione dei sedimenti che vengono che vengono portati a questo punto ok ho messo questi campi ok e vedete che qui mi è comparso area studio ok questo è un nuovo shape file che al momento è un nuovo layer che al momento è completamente vuoto non c'è niente per disegnare per fare qualcosa qui dentro devo andare qui toggle editing e vedete che è venuta una matichina in questa in questa area di studio a questo punto vedete che si è acceso questo layer e mi dice add point feature quindi posso mettere un add point feature qui e lui mi chiede dimmi la tabella id sarà 1 perché è il primo punto nome area area 1 hanno di misura per esempio di questa concentrazione dei sedimenti che mi sto totalmente inventando il 2022 sedimenti 12.23 vedete che se io io sto schiacciando altri numeri ma non me li fa mettere perché ho già messo due numeri dopo la virgola come gli avevo detto ok e lui mi ha messo il punto vediamo di portarlo in alto e voglio mettere un altro per esempio quest'altro fiume vado di nuovo qui tac id 2 nome area area 2 id ci vuole sempre perché è un id univoco quindi l'id è l'unico campo che vi farà sempre creare 2023 e 12.36 ok ecco qua finisco finisco di editare toggo l'editing vuoi salvarli sì e a questo punto se vado a tasto destro open attribute table vedete che io ho area 1 e area 2 ho creato ho creato uno shape file con una tabella attributi dentro e se vado all'interno dei miei file quindi all'interno del file che vi ho fatto vedere prima i miei file vedete che ho creato area studio shp prj dbf cpg sfx quindi tutto quello che ho scaricato cioè gli stessi tipi di file che ho scaricato da da natural earth ok adesso di nuovo posso fare una cosa del genere posso vedete che ho tantissimi stili su cui scegliere vabbè ne scelgo uno a caso e vedete che ho le mie due aree di studio queste in realtà sono i simboli che vengono usati per la croce rossa però comunque QG sa tantissimi simboli già all'interno ok adesso però devo passare da questa mappa che è una mappa totalmente digitale a qualcosa che voglio magari salvare per stampare per mettere in da mettere in in qualche articolo scientifico nel mio report tecnico a questo punto passiamo da quello che si chiama map layer a quello che si chiama map layout quindi il layout di stampa di una mappa bene ora siamo a questo punto e vogliamo dicevo creare un layout di stampa quindi vogliamo stampare questa mappa mi tengo quest'area perché mi piace lo so che all'inizio avevo detto isola d'elba ma questa mi piace quindi abbiamo due fiumi abbiamo un po' di cose che ci possono aiutare vado su project e vado su new print layout nuovo layout di stampa lui mi chiede un titolo e gli posso dare un titolo a qualsiasi della mia carta e mi fa aprire questa nuova finestra questa nuova finestra è un foglio sul quale io posso poi andare a mettere i miei layout la prima cosa che faccio vado qui vedete che ho un più con un disegnino e questo è il modo di aggiungere la mia mappa ok aggiungo la mia mappa ora ci sono tanti modi di modificarla per esempio se clicco qui posso spostare leggermente magari voglio anche il cabo del sound vicente quindi posso spostare leggermente oppure se clicco qui scusate volevo solo oppure sempre se clicco qui posso con la rotellina del mouse sto facendo andare la rotellina del mouse posso ingrandire un po' la mia area vedete non troppo perché poi si grana perché ho un raster sotto quindi grana un po' non facciamola la muovo un pochettino e diciamo che ho di nuovo ok e diciamo che questo è più o meno il layout che voglio vedete che ho anche i nomi dei fiumi quindi sono abbastanza contenuti ora ci sono un po' di cose ci sono in realtà tantissime cose che si possono fare con un layout di stampa ma ci sono un po' di cose che sono questo mi sto rimettendo nell'editing normale sono un po' di cose che sono assolutamente obbligatorie quando si crea un layout di stampa queste cose sono tre la prima è il nord quindi dire dov'è il nord la seconda è dire dove dire qual è la scala della mappa e la terza è mettere una griglia con delle coordinate quindi di modo che chiunque sappia quali sono le coordinate ovviamente sto stampando una mappa e non è non c'è più la possibilità come avevamo prima come c'è prima nella parte digitale di sapere quali sono le coordinate e quindi bisogna dire a chi guarda questa mappa che coordinate partiamo dalla cosa più semplice dalle due cose più semplici nord se voi andate qui sotto avete add north arrow e mi aggiungo una bella linea del nord ci sono tantissimi simboli che possono essere utilizzati io generalmente tengo quello di default ma potete vedere qui che i simboli sono veramente tantissimi in realtà questi sono non so perché mette tutti i simboli up symbol io scrivo qui nord ok vedete che ce ne sono alcuni per esempio una rosa dei venti un nord fatto così vabbè questo no questa è un'altra cosa comunque questo per esempio quello che volete basta che sia indicato e visibile ed evidente che cos'è il nord mettiamo che mi piace questo nord su dove stessa ok lo metto in una zona visibile in una zona che non impasti con quello che voglio far vedere al lettore che sono i miei due siti o a chi guarderà la mappa che sono la localizzazione dei miei due siti e questo è fatto allora rimettiamolo qua così tanto in mare non ci serve seconda cosa è la scala subito sopra la scala del nord subito sopra la north arrow c'è add scale bar quindi vado qua e faccio un add scale bar e vedete che lui mi dice la scala a cui è il mio disegno attenzione che nel momento in cui metto la scala scusate sto cercando di zoomare sto zoomando nel stavo cercando di zoomare prima seleziono questo e questo ok vedete che nel momento in cui io metto la scala se zoomo nella mia mappa la scala qui sta cambiando ok perché ovviamente se io zoom più diciamo riduco lo zoom aumento lo zoom qui ho zoomato moltissimo sto cambiando di tanto qui sto semplicemente muovendo la rotellina del mio mouse ok quindi questo è una cosa da tenere a mente scelgo una scala adeguata adeguata e poi mi fisso e poi mi vado nella scala se clicco sulla scala vedete che qui ci sono anche un po' di di possibilità di cambiare per esempio mi dice fai ogni 25 unità quindi in questo caso ogni 25 chilometri posso farlo ogni 50 chilometri e quindi qui avrò 100 100 comunità ovviamente se zoom fuori quindi se zoom out tanto questa scala se la tengo a 50 chilometri si riduce a 25 chilometri si riduce tantissimo e quindi dovrò fare dovrò lavorare con questo parametro però 25 in questo caso mi va bene e lo faccio lo metto così poi un'altra cosa che posso fare è andare a e andare a mettere che devo fare è andare a mettere la griglia questo si fa andando qui su grades aggiungo la griglia e poi faccio modify grade per adesso non è comparso niente intervallo della griglia perché devo mettere un intervallo di griglia in grado 0.5 0.5 vedete che qui si è creata una griglia è molto fitta in realtà potrei fare vediamo cosa viene con 1 1 scusate la rotellina del mio mouse non mi piace tantissimo scusate la di in gris di nuovo ho perso ho perso quel punto perché ho cliccato non mi piace tantissimo perché avrei solo una coordinata qui e qualche coordinata qui quindi qui potrei fare 0.5 0.5 di solito si fanno equidistanti potrei fare 0.8 vorrei almeno due coordinate sull'asse sulla latitudine 0.8 0.8 così qui ho due definizioni di griglia quindi ho 1 2 3 e 4 va bene vedete che posso fare questo vado di nuovo l'ho perso di nuovo ogni volta che clicco qui ho una definizione di griglia scappo dalla definizione di griglia posso dargli un frame diciamo che gli do un exterior tics vedete che mi ha messo delle tics esteriori a me generalmente non piace lasciare queste linee quindi le tolgo tolgo la linea di fatto io di solito la tolgo semplicemente mandandola completamente trasparente che è una cosa che non si fa però faccio così quindi la mando completamente trasparente e ho tolto le linee interne e poi di solito gli dico disegna le coordinate vedete che sono comparsi dei numerini il formato potete sceglierlo io di solito mi faccio gradi minuti qui vedete avete left scusate left right up top e bottom il left e il right io di solito li metto verticali così avete una bella definizione in questo modo e il top e il bottom li lascio così vedete che avete queste coordinate sono un po' piccoline quindi vado su font ho fatto questo vado su font e invece che 10 lo metto un po' di più ok sono un po' piccoline vedete che c'è un'altra cosa che non mi piace questo è 0 non hanno non hanno definizioni in non ha definizione oltre il decimo di minuto quindi qua coordinate precision metto 0 e vedete che ecco qua fatto ok quindi qui avete la scala del scusate il nord la scala avete questo e direi che è abbastanza è già una mappa abbastanza decente che può essere utilizzato mi sono accorto che c'è una cosa che manca però qui sarebbe bello che avessi scritto area 1 area 2 ok per definire un pochino le mie aree come faccio salvo il layout devo salvare tutto il progetto perché non ho salvato il progetto quindi miei file vado dentro esercizio GIS e faccio il progetto eccolo qui salvato ora è salvato lo chiudo posso ritornare dove ero prima e dico area di studio mettimi dei label single label nome area le faccio un po' grosse e magari le faccio in bold ok ok area 1 area 2 ora vado su project layouts trovo la mia stampa trovo il mio layout di stampa lo apro e magicamente mi compaiono area 1 e area 2 le due cose il layout di stampa e la mia mappa sono collegate cioè se io aggiungo delle cose io mi raccorgo che mi mancano delle cose lo collego direi che è abbastanza buono faccio ancora una cosa che io di solito faccio metto un frame frame quindi un frame che mi delimiti la zona lo faccio un po' più spesso 05 lo faccio in nero ok perfetto c'è un'altra cosa che non mi piace vedete questi nomi il nome di questi fiumi sono un po' impastati sono un po' illegibili quindi salvo vado sul mio progettone devo trovare il modo di farmi queste label un po' più grandi e di nuovo vediamo se mi prende la maschera in questo momento mascherarla applicati di nuovo chissà come mai non mi prende la maschera questa è una cosa che devo riuscire a capire però facciamo così invece che farlo con questo azzurrino facciamolo bianco vediamo se risalta un po' di più secondo me sì ok salvo salvo vado sul scusate vado sul layout di stampa e vedete che si vedono un po' meglio i nomi dei fiumi ok a questo punto sono abbastanza soddisfatto della mia mappetta in cinque minuti però abbastanza soddisfatto vado qui e la posso attraverso questi bottoni o stampare oppure me la posso esportare stampa in jpeg salva lui mi chiede la risoluzione va bene già un 300 dpi dots per inc io mi farei anche un 600 un 500 ok 6 e a questo punto io dentro dentro la mia cartella che adesso salvo tutto posso chiudere qgis dentro la mia cartella gis accesses che abbiamo visto prima ho sia il progetto che mi sono salvato che chiama tutti questi file quindi il progetto nella stessa cartella dove i file linka tutti questi file attenzione che quando mandate a qualcuno un progetto gis un progetto qgis non dovete mandargli solo il file il progetto dovete mandargli tutti i file insieme e poi ho il mio layout di stampa che nient'altro è che un'immagine che posso utilizzarmi all'interno di una tesi un articolo una presentazione qualsiasi cosa ok questo è quanto per quanto riguarda creare una mappetta abbastanza semplice in qgis per iniziare a prendere in mano questo software che ha enormi potenzialità enormi però questo è il primo esercizio che si può fare in maniera molto semplice per imparare a lavorarci una cosa che si può fare è cercare altri tipi di dati vi faccio vedere molto brevemente quello che si può fare per esempio con un plugin che si chiama scusate open layers plugin o il quick map services plugin si possono mettere altri tipi di mappe una mappa un tipo di mappa che a me piace molto sono le mappe di google per esempio la ibrida di google a questo punto mi sto collegando alle mappe ibride di google e vedete che sopra la mia area ho messo le mappe ibride di google io però sopra posso metterci la mia linea di costa posso metterci le mie area di studio se le porto sopra le le prendo se lo posso se spengo questo spengo questo layer posso vedere che cosa avevo sopra ci sono tanti tipi diversi di mappe una di quelle che conviene di più usare sono le open street maps le open street maps sono di fatto mappe libere liberamente utilizzabili in licenza libera quindi che non ci danno problemi come potrebbe darci google nel caso in cui volessimo utilizzarle per determinati scopi magari commerciali e vedete che qui ho aperto l'open street map e mi viene dato una mappa comunque abbastanza abbastanza bella da vedere ci sono diversi layout degli open street map open street maps che possono essere utilizzati per le varie per le varie mappe una cosa a cui stare attenti è che quando vado a stampare il layout open street map devo stare molto attento molto bene e fare cercare di capire molto bene quanto grandi sono queste label non devono risultare illegibili quindi su questo c'è un po' di lavoro da fare addirittura i vettori open street map si possono anche scaricare si possono si possono poi si può aggiustare la scala questo quick map services plugin si scarica dai plugins quindi se vado qui plugins manage and install plugins mi viene fuori una lista di programmini che sono stati fatti sia da sviluppatori di QGIS che da altri sviluppatori da altri sviluppatori intorno al mondo per esempio questo quick map services plugin mi dice che ce n'è una nuova versione disponibile se non l'avesse installato mi direbbe semplicemente installarla a questo punto faccio upgrade plugin close vediamo cos'è cosa c'è di nuovo web quick map services plugin praticamente nulla secondo me è un pochino migliorato alcune cose vedete un'altra mappa tipica lo stamen terrain ah che non me l'ha caricata vuol dire che lo stamen terrain probabilmente lo hanno ah no non me l'ha caricata probabilmente lo hanno tolto vediamo un'altra mappa che uso molto spesso ci sono quelle della NASA che sono molto belle oppure 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 hanno quello stamen terrain in background non ci sia più mettiamolo su no non ci sono più probabilmente sono state dismesse peccato potete mettere google potete mettere bing potete mettere tanti altri tipi tanti altri tipi di mappe ad esempio vediamo se ci sono ancora le mappe strava no non ci sono neanche più queste se deve essere successo qualcosa alle mappe di proprietà terza vabbè nel nuovo update che ho appena fatto comunque questo è quanto per quanto riguarda l'utilizzo di QGIS per fare un nuovo update di QGIS per fare un nuovo update di QGIS per fare un nuovo update Grazie a tutti